Scorpione carissimi, allora, la luna lunedì e martedì vi aiuta, venerdì, sabato e domenica vi procura botte di glutei, avete giove nel vostro segno che espande il raggio d'azione di tutti voi, Saturno che consolida assolutamente i risultati che voi ottenete, ma perché vi fate girare gli zebedei per delle stupidaggini. Cercate di trovare delle soluzioni condivise, sia sul lavoro, sia se siete in vacanza, sia in famiglia, non state sempre col pugnale fra i denti cercando lo scontro con gli altri, perché non va bene, ripeto, le stelle nel complesso vi aiutano e ve ne accorgerete molto prima di quanto voi possiate pensare, però c'è sta fornicazione che è proprio una pena, stendiamo un telomare pietoso sulla vostra alcova, ma cambierà.